Sessi di marzo 2018, saluri bene bene uso a Noa Zain Curzu, allo di Noa Zadeo, inghizzo su un sudrabalo, i segretari su regionalisi dessa funzione pubblica, dessa CGL Antonio Cois, dessa CGL Davide Pateri e dessa Will Fulvia Murru, anti-spraccinare una nota d'imprenta a pizzo su dessa situazione dei dipendenti dei centri su Aias, dessa Sardinia, i segretari su sindacali si de categoria pregontano tanto in tolto isa struttura za Aias, e prus che tolto in gustas a residenzialisi, si era a Parigià uno sistema de videosorveglianza po' s'adutella dei sospiti, ma vincese dedotto i soperadorisi e appustisi, proponenti vincese, in ci si era una commissioni paritetica, in ci si era salvarti dei suddatori del sudrabalo, ma vincese cusa sindacali, po' fuedà in paio dei scorsi a chi accontessi, plus che tolto degustas a chi vuole intivortare a sanzionisi, prus artas a dessa sospensioni di una di dei traballo. E se che uso un sagronaca domunoasa antavettau gissamere e saddomu ci vestibessia vandai ai seggiosu vovottai e funti brintausu indomu se usuvvedendi de tre espressonesi, una vicioca tra custo su gianoria a iscarabinerisi funti intrasu in saddomu e d'antibicavo prendasa e attrasa a inasa inghizzadasa all'estru i sindaginesi, i scarabinerisi funti lompius ai nominativus dei stresi e funti a rinescio su vincese a indibicare su gindenta furava e tutta a raias proprietaria funti si chendi moisa certamentus può comprendi puro si stregiovano su funti mattesisi che hanno fatto e attrasa a fainas asimilisi in su tempus passau. Andau su a sabaronia avui lompiasa bonas orti sessantadua mila euro subbintu su giochenda sul lotto in su stango de sabida sul citana. Fortuna mana dunca sa no esti noria claramente sidentitari dessa fortunau o desafortunada. Lompiusa a savagina culturali andau su a mazainasa a tovio crasi ai sduas e mezzo de meigama in sasei dessa biblioteca comunale in curu de su sistema bibliotecario interurbano de su sulci sin sa collaborazioni dessa TS Sardinia e dessa Alza de Garbogna una filera de a tovio su uovro movi sa lettura abogiarta fatta uo ispipius ma vincese vossa gentimana Crosira Rosa. Noasa de Utilitari, Carbogna su centro vosso impreo de Carbogna a Parigi era seminario su informativo su appizzo su dessa Ina de Aggiuru resto al sud in idisi 16 de marzo 2018 ai sdegi de Menjano in sasei de via costituente numero 43 in Carbogna si intervento finanziar a progetto su imprenditorialisi nouso cirengata savuna de savrodusidura in isetolisi de sartigianau de sindustria de savisca de s'acquacoltura e custo su ibertocca da savrodusidura de servizio su tra custo su vincese e custo su turistico su ispartecipantisi anta depireni unedari intra i sdegiotto e i strinta gincanus voo si iscria ai seminariu su toccara a preni un modulo che esti presenti in suggiassu de Sardegna Lavoro o vincese da cattavusu in su centru o simpreu de Carbogna Sant'Antiogus amministrazioni comunali parisca in salvo pretorio esti in pubblicazione su bando integrativo de concursu anno 2018 pocanto vertocca la sa graduatoria dei domus popolari si sa domanda de pregunta che si vuole fa i scetti con i modulos a pariscaus des amministrazioni presentes in sufficio de segreteria anta depilompia su protocollo a intru de subitresi de marzo chieniri atrusu informus in sufficio de segreteria e serausu con un'altra noa de importu gindilompiri de su gomunu de Carbogna s'amministrazioni varisciga cestirempus ovinasas su drinta de marzo 2018 po presentais preguntas a desa posa concessioni de su bonus idrico un'agevolazione tarifaria po' su servizio idrico integrao po' s'annualidari 2006 po renti denni gustu beneficio i famigliasa chiedenti una certificazione isè balida che si era paresi o rubascia de 10.000 euros e depi denni vince i fatturas po' su servizio idrico integrao a banoa pagare-se o non pagare-se chi vertò canta sugo su summo in sanno 2006 e questa vi era su ultima noa ma usato su grazia sa che se vai pregese la rosa ha toglia i grazi adios la rosa ha toglia i grazi